Due Pugliesi in vetta alla Girone H della Serie D, in Martina di Mister Pizzulli, la team Altamura di Giacomarro. Tra le due compagini, probabilmente il club dei presidenti Luciano Soldano e Piero Lacarbonara, a sorprendere maggiormente. Di Triania hanno battuto Manfredonia, Bitonte e Rotonda, rendendosi protagonisti di una memorabile rimonta in ultima giornata nella sfida contro la compagine Lucana. Nell'ultimo scena di campionato, sui discuti e finitori di Duan Palermo, l'attaccante argentino, figlio di Pavan Martin, ex giocatore del Boca Juniors, ha siglato una doppietta, prendendo per Manuel Martin sino alla vittoria finale. Un ottimo impatto per il calciatore classe 1996 con il campionato di Serie D. Il numero 9 vanta una media di un gol a partita, avendo realizzato tre reti, di cui due sul calcio di rigore. Il suo apporto è fondamentale anche nella manovra di gioco della squadra di Mister Pizzulli, un attaccante possente fisicamente, al quale si abbinano delle grandi qualità tecniche. Palermo ha le sembianze della classica boa, il tipico giocatore che ama fare sportellate con la retroguardia avversaria e che aiuta i propri compagni di squadra a guadagnare metri importanti sul rettangolo di gioco. A queste caratteristiche si aggiungono anche la verve realizzativa e il fiuto del gol, due peculiarità di primissimo livello per un centravanti. E domenica in quel di Agropoli, l'esame Gelbi sono per consolidare il primato e cercare il quarto risultato utile consecutivo. Gli uomini di Mister Pizzulli sono chiamati a non avere proprio la prova di maturità. Un eventuale successo darebbe un segnale importante ai pretenenti alla vittoria del torneo. Il Martina vuole alzare l'asticella e lottare per la promozione diretta in Serie C. Grazie a tutti.